Questa terza unità didattica del modulo sul ragionamento in condizioni di incertezza introduce il teorema di Bayes. Credo che il teorema di Bayes sia il risultato più importante di tutta la teoria delle probabilità. Credo che il teorema di Bayes stia alla teoria delle probabilità, così come il modus ponend oponens, il ragionamento siologistico, stia alla storia della logica. Si tratta di due risultati, il ragionamento siologistico e il teorema di Bayes, duemila anni dopo, che fanno parte della storia del pensiero razionale e come tale dovrebbero, credo, entrare a far parte del modo normale di ragionare correttamente in molti domini della conoscenza umana. Il teorema di Bayes tratta appunto di probabilità e quindi nasce in un contesto, in un dominio dove si trattava di probabilità di accadimento di eventi. Ma abbiamo visto nella unità didattica precedente che l'impianto concettuale logico-matematico della teoria delle probabilità lo possiamo anche esportare al dominio della credibilità delle affermazioni perché probabilità di un evento e credibilità di una affermazione, magari legata a quell'evento, condividono i presupposti stessi su cui si basano il concetto di probabilità e il concetto di credibilità, e cioè il presupposto della ignoranza sulla completezza delle condizioni al contorno che determinano un evento o sulle condizioni che possono determinare il valore di verità di una certa affermazione. Abbiamo quindi già imparato a vedere un risultato della teoria della probabilità sotto due aspetti e come probabilità di accadimento di un evento o e come supporto alla credibilità di una certa affermazione. Quindi, da dove parte il teorema di Bayes? Parte dal concetto di probabilità condizionale, ovvero la probabilità di accadimento di un evento A sulla base del fatto che constatiamo che l'evento B è accaduto è data dalla probabilità a priori che accadessero sia l'evento A che l'evento B diviso la probabilità a priori che l'evento B potesse accadere. Detto invece in termini di credibilità, noi diremmo che la credibilità della affermazione A una volta constatata con altri metodi, per esempio con riscontri oggettivi, come si dice in ambito giudiziario, la veridicità della affermazione B è data dalla credibilità a priori che fossero vere sia l'affermazione A che l'affermazione B diviso la credibilità a priori dell'affermazione B. Ora, cos'è che constatò, che notò, che osservò, che pensò Bayes? Bayes notò che dal punto di vista logico dire che accade l'evento A e accade l'evento B o diremmo noi in termini di credibilità la credibilità dell'affermazione A e B e, anzi, l'affermazione A e B, l'evento congiunto A and B non sono diversi dall'affermazione B and A l'evento congiunto B and A cioè, voglio dire che in entrambi i casi sia nel dominio delle probabilità che nel dominio delle credibilità e cioè della logica dire A and B e dire B and A è dire la stessa cosa poiché il connettivo AND è commutativo ma, allora, se la probabilità di A and B è la probabilità di A condizionato B per la probabilità di B e la probabilità di B and A è la probabilità di B condizionato A per la probabilità di A essendo che A e B e B and A è la stessa cosa significa che queste due probabilità devono essere identiche avere lo stesso valore e questo significa che la probabilità di A condizionato B per la probabilità di B è data dalla probabilità di B condizionato A per la probabilità di A questo significa che se io voglio calcolare la probabilità che A sia vero alla luce del fatto che constatiamo che B è vero è accaduto questo sarà portando P di B al secondo membro al denominatore ovviamente questo sarà la probabilità di B condizionato A per la probabilità di A diviso la probabilità di B ovvero teorema di Bayes 1763 Thomas Bayes il reverendo Thomas Bayes era morto da due anni quando gli amici conoscenti decidono di pubblicare i risultati di alcuni suoi studi sulla dottrina delle eventualità e riescono in ciò e quindi pubblicano al mondo i risultati da lui dovuti in particolare questo teorema qui che dice in termini di probabilità l'ho già enunciato lo rienuncio in termini di credibilità la credibilità di una certa affermazione A a luce del fatto che constatiamo già e la diamo per certa la credibilità dell'affermazione B perché abbiamo avuto degli scontri oggettivi sul caso essa è data dalla probabilità dell'affermazione B condizionato il fatto che l'affermazione A fosse vera per la probabilità della credibilità dell'affermazione A diviso la credibilità dell'affermazione B tutto ciò considerato credibilità a priori dunque le applicazioni del teorema di Bice quindi sono varie e certamente le due più intuitive che mi vengono in mente sono applicazioni per esempio nel contesto giudiziario dove piano piano si sta facendo strada questo modo di valutare la credibilità delle affermazioni fornite per esempio in un contesto di un caso giudiziario ma molto prima di questo ovviamente il dominio per eccellenza è il dominio delle scienze mediche delle conoscenze mediche laddove cioè B potrebbe essere una sintomatologia e A potrebbe essere una patologia che è all'origine di quella sintomatologia cioè se io dalla scienza medica so che una certa patologia si evidenzia mediante una certa sintomatologia e so quanto è probabile che quella malattia si evidenzi mediante una certa sintomatologia so anche qual è l'incidenza di quella malattia sulla popolazione in esame e so anche quant'è la incidenza di quella sintomatologia sulla popolazione in esame se io ho delle statistiche come queste che ho illustrato riguardo una certa malattia e una certa corrispondente sintomatologia riesco anche a valutare alla luce il teorema di Bayes in maniera puntuale e precisa qual è la probabilità che una persona un soggetto sia effettivamente malato di quella malattia alla luce del fatto che si constatta che il soggetto presenta una certa sintomatologia in un altro dominio potremmo dire per esempio che se io so qual è la probabilità che se c'è un furto scatti un certo allarme perché questo me l'ha detto la cassa produttrice di quell'allarme e io so quant'è la probabilità che in quel quartiere avvengano dei furti e so anche qual è la probabilità che in quel quartiere scattino degli allarmi perché sia la probabilità dei furti che la probabilità degli allarmi li ho raccolti sulla base di un'osservazione frequentistica statistica su quel quartiere allora riesco anche a determinare in maniera puntuale e precisa qual è la probabilità che suonando un allarme quindi constatando che stia suonando un certo allarme posso valutare in maniera puntuale e precisa qual è la probabilità che effettivamente sia in atto un furto non ho qualche abitazione del teorema di Bayes in certi contesti si deve dare una visione un annunciato un po' più ampio per esempio in ambito giudiziario ho visto questa concettualizzazione e cioè se io per esempio ho una certa teoria di riferimento relativa a una certa fenomenologia chiamiamola questa teoria di riferimento T quindi do per scontato che ci sia questa teoria T e inoltre questa teoria T in qualche maniera do per scontato che contenga delle affermazioni vere indiscutibili se io so vengo a a sapere che l'affermazione B è vera oltre a T e mi chiedessi quant'è la probabilità che anche sia A vera alla luce del dopo scontato che T sia vera e alla luce del fatto che anche B è vero allora la probabilità questa probabilità sarà data dalla probabilità che dato A sia vero B oltre ovviamente alla teoria per la probabilità che sia vero A dato per scontato la teoria diviso la probabilità che sia vero B dato per scontato la teoria in pratica questa formula non altro che una rilettura del teorema di Bayes unitamente alla regola della catena che abbiamo visto nella unità didattica precedente cioè in pratica abbiamo sostituito la probabilità condizionale di A condizionato B con la probabilità di A condizionato B e T molto più interessante invece è quest'altra lettura enunciazione del teorema di Bayes che va a sviluppare il denominatore del teorema e cioè P di B la probabilità a priori che B sia vera che sarebbe la probabilità cioè di ciò che noi riteniamo essere vero la possiamo anche esprimere riteniamo abbiamo osservato essere già vero e la possiamo esprimere come probabilità di B and una qualunque altra informazione per esempio A più la probabilità di B and la negazione di quella qualunque affermazione come mai ho fatto questo specchietto qui a fianco logico per illustrare questo e cioè se io mi chiedo avendo solo due lettere professionali A e B qual è la probabilità di B la probabilità di B si vede che è la probabilità di I1 più la probabilità di I3 perché I1 e I3 sono i mondi in cui B è vero ma esattamente la probabilità di I1 è la probabilità del mondo in cui sono vere A e B la probabilità di I3 è la probabilità del mondo in cui è vero B ed è vero not A quindi questo giustifica il fatto che P di B sia dato da P di B and A più di P di B and not A ma se vado ad utilizzare la definizione di probabilità condizionale e sostituisco a P di B and A sostituisco P di B condizionato A per P di A e a P di B and not A sostituisco P di B condizionato not A per P di not A e a questo punto sostituisco questa formula a P di B nel teorema di Bayes e ciò quello che ho illustrato in questa slide che è l'enunciato più completo e più famoso del teorema di Bayes e cioè lo rileggo di nuovo in maniera definitiva la probabilità anzi leggiamolo in termini di credibilità la credibilità di una certa affermazione A a luce del fatto che dopo per scontata la veridicità dell'affermazione B è data dalla credibilità che sia vero B a luce del fatto che dopo scontato che A sia vero per la credibilità dell'affermazione A diviso esattamente questo denominatore e cioè la credibilità di B condizionato A per la credibilità di A più la credibilità di B condizionata nota A per la credibilità di nota A questo è l'enunciato più famoso più completo del teorema di Bayes adesso andiamo ad applicarlo in un contesto preso da temi attuali che sono attuali nel momento in cui sto tenendo questa lezione e cioè mi riferisco per esempio al vexato a questi dei test di valutazione della positività a un contagio virale per esempio prendiamo il famoso tampone antigenico che è stato molto utilizzato e lo si sta correntemente utilizzando in tutto il mondo anche nel nostro paese e riguarda riguardo la possibilità la credibilità di essere contagiati dal virus della SARS-CoV-2 questa è la cioè nei quattro lati della che vedete qui della della scatola che contiene 20 20 20 20 esami possibili di questo test e questo test antigenico tampone antigenico nel manuale che è contenuto dentro questa questa scatola è descritto come valutato validato in confronto ad una ground truth che sarebbe la supposta verità assoluta circa l'evento essere stato contagiato che ovviamente è ignota ma è quindi per valutare l'efficacia insomma la sensitività e la sensibilità di questo test è stato utilizzato come ground truth la positività e la negatività è registrata con un altro test di natura diversa che è il tampone molecolare volgarmente tampone molecolare in realtà si tratta di un test ottenuto con una tecnologia totalmente diversa da quella antigenica che sarebbe la real time polymerized chain reaction RT PCR come è stato effettuato io l'ho letto sempre dentro il manuale di questo test che è contenuto dentro la scatola che adesso anche vi illustrerò sostanzialmente sono stati presi un certo numero di soggetti questi soggetti sono stati messi a contatto con una con una versione denaturata del virus SARS-CoV-2 ovviamente sono stati sottoposti a tale trattamento sotto consenso informato ovviamente e questo questo virus era stato denaturato tramite calore ma comunque erano stati messi a contatto con questo virus dopodiché alcuni si saranno contagiati altri no per capire quelli che erano contagiati e quelli no è stato usato il tampone appunto molecolare questa RT PCR e i risultati li vedete qui nella colonna in questa scansione di una pagina della pagina centrale insomma del manualetto che descrive la verità statistica di questo test antigenico li trovate qui nella colonna più a destra in pratica con il tampone molecolare di questi 317 persone che erano state in qualche maniera messe a contatto con il virus 61 ne sono risultate effettivamente contagiate 256 no di questi 61 che erano stati contagiati dal virus alla luce del tampone molecolare 59 sono stati effettivamente riconosciuti come contagiati anche da parte del test antigenico mentre 2 non sono stati riconosciuti contagiati da questo test antigenico quindi abbiamo avuto due falsi negativi cioè due soggetti che sono stati risultati considerati con il tampone antigenico negativi cioè non contagiati mentre invece alla luce del tampone molecolare erano risultati contagiati per quanto riguarda i non contagiati secondo il tampone molecolare di questi 254 sono stati effettivamente riconosciuti non contagiati anche dal test antigenico mentre 2 di questi 256 sono stati considerati positivi dal test antigenico quindi abbiamo che il test antigenico ha una certa percentuale di falsa positività cioè 2 sono stati considerati positivi su 256 che invece non erano secondo il tampone molecolare positivi quindi come rilevato dal manuale di questo test abbiamo per esso una sensitività relativa riferita al RT-PCR del 96,72% cioè come ricavato questo 96,72% prendendo 59 il numero dei positivi riconosciuti dal test dividendo per il numero dei positivi riconosciuti da molecolare cioè 59 su 61 facendo 59 su 61 si ha 0,9672 che sarebbe la sensitività relativa cioè questo altro non è che la probabilità che risulti positivo il soggetto sottoposto al tampone antigenico a luce del fatto che è stato effettivamente contagiato ma il fatto che è stato contagiato chi ce lo dice ce lo dice il tampone molecolare non scordiamoci mai di questo perché ma questa è la ground truth il tampone emoclore è il ground truth dunque poi abbiamo anche da questa tabella la possibilità di poter ricavare oltre a specificità ci interessa molto un'altra probabilità condizionata cioè la probabilità che sia positivo se non è contagiato quindi sarebbe 2 diviso 256 cioè su 256 casi che non erano sono stati contagiati cioè non hanno non sono stati contagiati pur essendo stati a contatto con il virus 2 sono stati ritenuti positivi ma noi sappiamo che in realtà sono falsi positivi perché in realtà non erano questi 200 nessuno di questi 256 soggetti erano stati effettivamente riconosciuti contagiati dal tampone molecolare quindi la probabilità che sia stato riconosciuto contagiato dal test antigenico 1 che alla luce della Grand Fruit non era risultato contagiato è 2 diviso 256 cioè 0,0078 bene questi numeri sono i numeri che derivano proprio dal manuale del test a questo punto possiamo andare ad applicare questi numeri all'interno del teorema di Bayes per far cosa? per andare a calcolare la probabilità che un soggetto sia effettivamente contagiato alla luce del fatto che è risultato positivo a un test è già perché il mainstream fa passare la probabilità che una persona sia contagiata se è risultato positivo al test come identica alla probabilità che sia positiva al test ma ovviamente non è il concetto dello stesso sicuramente la probabilità che una persona sia contagiata se risultata positiva non è la probabilità che sia positiva se risulta essere contagiata questa che ho appena detto la specificità del test ce la dà il test quest'altra ce la dà il teorema di Bayes come fa a darcela e dobbiamo aggiungere un altro numeretto che in questa tabella non c'è per poter calcolare la probabilità che una persona sia effettivamente contagiata a luce del fatto che è positiva dobbiamo anche introdurre un altro numero che sarebbe la probabilità che effettivamente una persona sia contagiata questo è quello che andiamo a fare poi sul campo cioè prendiamo i numeri di questa tabella e li andiamo dopo ad applicare sul campo e quindi dobbiamo fare una qualche ipotesi sulla probabilità di avere una certa sull'incidenza della diffusione del contagio cioè la probabilità di prendendo un soggetto a caso quindi non un soggetto che ha delle indicazioni per poter essere sottoposto a un test antigenico per esempio il fatto di esibire una certa sintomatologia evidente che se esibisce una certa sintomatologia e io scelgo il soggetto per questo motivo quella non sarà una scelta casuale così come non sarà una scelta casuale quella di prendere un soggetto che lui magari non presenta una sintomatologia ma è stato recentemente a contatto stretto con qualcuno che quella sintomatologia lo presentava o addirittura è stato accertato essere contagiato beh questi sono casi in cui proprio la scelta del soggetto da sottoporre al test non sarebbe casuale se noi invece facciamo un tamponamento casuale come per esempio quelli che sono stati fatti in occasione dei tamponamenti estesi su tutta la popolazione ad esempio a questo punto possiamo considerare abbastanza casuale il fatto che un soggetto sia stato sottoposto a campione e quindi possiamo effettivamente porci la domanda ma qual è la probabilità che questo soggetto se risulta positivo sia effettivamente contagiato ora supponiamo ad esempio per poter fare solo un esempio che a un certo punto della storia della diffusione di questo contagio il tasso di incidenza del contagio stesse al 2 per 1000 supponiamo cioè che prendendo a caso su una popolazione scegliendoli a caso quindi dall'elenco telefonico 1000 persone due di queste risultassero effettivamente contagiate da questo virus la probabilità a questo punto di non essere contagiato sarà il complemento a 1000 di questo 2 e cioè 998 quindi avere un 99,8% di probabilità di non essere contagiato ora se tutti questi numerini li andiamo a mettere nella formula del teorema di Bayes risulta che la probabilità di essere contagiato alla luce del fatto che il test ha dato un risultato positivo è la probabilità che il test ha dato un risultato positivo alla luce del fatto che sia stato contagiato per la probabilità del fatto che il soggetto fosse contagiato diviso stesso numeratore più la probabilità che il soggetto sia risulti positivo al test alla luce del fatto che non è contagiato per la probabilità che lui non è contagiato andando a inserire questi numeri la sensitività il tasso di l'incidenza della diffusione del virus più qui al denominatore stessa cosa più la probabilità che l'incidenza dei falsi positivi sostanzialmente di colui che non è di coloro che non essendo contagiati però risultano positivi questo è il tasso di incidenza dei falsi positivi per il complemento a 1 dell'incidenza del contagio quindi la probabilità che una persona sia non contagiata risultato 0,199 quindi vuol dire che alla luce del teorema di Bayes se abbiamo un'incidenza di diffusione del contagio al 2 per 1000 e con quel test lì il test antigenico supposto che la statistica del test antigenico sia stata valutata correttamente prendendo come il grand truth il tampone molecolare e supponendo che abbiamo sottoposto in maniera del tutto casuale un soggetto a questo controllo se questo soggetto risulta positivo in realtà lui avrà solo il 20% di probabilità di essere effettivamente contagiato quindi questo è un risultato molto importante credo di poter dire che ripeto non va fatta confusione fra la probabilità che un soggetto sia contagiato se risulta positivo non la si può prendere come la probabilità che sia positivo se è contagiato questa potrà anche stare vicino al 99 avvicino al 100% arrivarci arrivarci mai ma di essere molto vicina e chiaramente più alta questa qui più questo qui tenderà a uno si tenderà a quest'altro termine del denominatore magari avrà un significato sempre meno minore però se abbiamo un tasso di incidenza del contagio molto bassa per esempio e quindi una possibilità molto alta che il soggetto non sia contagiato questo cioè un'incidenza del contagio molto bassa non farebbe che amplificare perché qui è moltiplicato l'incidenza dei falsi positivi e quindi l'incidenza della percentuale dei falsi positivi sul risultato finale del test cioè voglio dire che adesso io non l'ho fatto questo calcolo lo lascio a voi per esercizio ma se ci portassimo al giorno in cui fu contagiato il primo uomo nel passaggio del virus dal pipistrello all'uomo e avessimo sottoposto quel giorno esattamente quel giorno quel giorno a un tampone tutta la popolazione mondiale è un esperimento mentale che possiamo fare avremmo avuto qui probabilità di essere contagiato uno su sette miliardi e quindi probabilità di non essere contagiato uno praticamente e quindi a questo punto questo uno qui avrebbe fatto questo uno su un miliardo avrebbe reso del tutto poco significativo andiamolo a fare andatelo a fare il calcolo vi risulterà che avremo una probabilità di di essere contagiato alla luce del fatto che sono risultato positivo e credo molto molto bassa per adesso magari lo si può andare a calcolare ma credo abbastanza bassa effettivamente alla luce del fatto quindi per come mai questo è perché il test ha un certo numero di falsi positivi magari sarà basso però a questo punto quando lo vado a moltiplicare per un qualche cosa che è molto vicino ad uno e allora questo e soprattutto vado a moltiplicare per un qualche cosa che è molto vicino a zero l'incidenza del contagio la probabilità la sensibilità del test lo vado a moltiplicare per qualche cosa che è molto vicino a zero ci avremo un denominatore che diventa piccolissimo a questo punto diviso un qualche cosa che piccolissimo non è a quel punto diventa piccolissima anche la probabilità che sia contagiata alla luce del fatto che sia positivo a questo punto ci potremmo chiedere a questo punto qual è la probabilità di essere realmente positivo a un test del genere la probabilità di essere realmente positivo a un test del genere la possiamo evidenziare per esempio così la probabilità di essere positivo è come abbiamo visto prima per PDB la probabilità che sia positivo a luce del fatto che sei contagiato per la probabilità di essere contagiato più la probabilità che sia positivo a luce del fatto che non sei contagiato per la probabilità che non sei contagiato questi numeri o li prendiamo dal test o li prendiamo sempre dalla supposizione che abbiamo un tasso di incidenza di diffusione del virus al 2 per 1000 se supponiamo quindi questo 2 per 1000 come incidenza di diffusione del contagio abbiamo che questa probabilità è 0,097 ora 0,097 è quasi 0,01 e quindi direi che è quasi l'1% mentre l'altra quella diffusione del contagio è il 2 per 1000 che cosa significa questo? che mentre io ho una probabilità di essere contagiato del 2 per 1000 in realtà c'è una probabilità di risultare positivo dell'1% quasi e cioè che è quasi 5 volte maggiore e quindi se io prendo l'incidenza dei positivi cioè la probabilità che tu sia positivo ovviamente sempre preso con campioni casuali eccetera se invece io prendo come incidenza quelli che sono andati perché avevano un'indicazione specifica per essere sottoposti il discorso cambia ma se io faccio un tamponamento casuale sulla popolazione e c'ho un'incidenza della positività dell'1% non posso dire che c'ho una diffusione del contagio all'1% perché in realtà la diffusione del contagio che ha prodotto questo 1% è il 2 per 1000 e non l'1% una cosa abbastanza interessante invece molto tranquillizzante è il quale io mi posso chiedere ok sono risultato negativo a questo test quindi l'osservazione è che io sono non positivo cioè negativo mi sono sottoposto al test antigenico e sono risultato negativo sempre supponendo una diffusione del contagio al 2 per 1000 mi sto chiedendo quale la probabilità che a questo punto io sia contagiato anche se anche se il test mi ha dato risultato negativo beh applicando il teorema di Bayes la probabilità che io sia contagiato se il test ha dato risultato negativo è la probabilità che io essendo contagiato che il test scusate essendo io contagiato dia un risultato negativo per la probabilità che io sia contagiato diviso la probabilità che sia negativo ora la probabilità che sia negativo me la sono calcolata poco fa sarebbe 1 meno la probabilità che sia positivo e andando a mettere nella formula questi valori risulta che tale probabilità è 0,000066 il che significa che dunque ho 66 probabilità su 100.000 che io sia contagiato cioè vale a dire che se il test questo è molto tranquillizzante se il test mi ha dato risultato negativo io posso andare a casa tranquillo che veramente la possibilità che possa essere contagiato avendo una diffusione di contagio al 2 per 1000 è molto molto bassa e questo è molto tranquillizzante ecco questo è un esempio dell'applicazione del teorema di Bayes a un contesto a un qualche cosa di molto molto attuale e ci fa capire quanto è rischioso diciamo così trattare di queste cose e dare delle informazioni senza sapere esattamente il significato delle informazioni che si sta dando non si può confondere la probabilità che io sia contagiato se risulto positivo con la probabilità che io sia positivo se risulto contagiato il teorema di Bayes ci fa chiaramente capire che sono cose totalmente diverse e se io ignoro il concetto cioè faccio passare in cavalleria il concetto di falso positivo a questo punto diventano tutti quanti i soggetti asintomatici cioè praticamente io ho un soggetto che risulta positivo se dico che non esistono i falsi positivi a questo punto l'unico modo che posso giustificare questo risultato che ho avuto il soggetto è il risultato positivo ma sta benissimo se io escludo i falsi positivi a questo punto devo per forza chiamarlo soggetto asintomatico quindi lo chiamo soggetto contagiato ma che non c'è sintomi ma in realtà probabilmente molti dei contagiati senza sintomi non sono altro che falsi positivi non soggetti sicuramente contagiati ma che stranamente non presentano sintomi sono semplicemente soggetti che non sono contagiati dunque in conclusione però adesso vediamo un altro problema invece che è insormontabile ed è di natura logico-filosofica ed è un problema che incontriamo quando passiamo dalla probabilità alla credibilità perché quando passiamo dalle probabilità alle credibilità in pratica introduciamo degli elementi di nuovi diciamo così che sono le categorizzazioni in base a quale andiamo potremmo andare potremmo andare a prelevare le statistiche di frequenza mi spiego meglio anzi faccio direttamente l'esempio che c'è qui in questa slide e poi lo commentiamo per capire quello che cercavo di dire e non sono riuscito a dire proprio adesso supponiamo che Ugo sia italiano e che siamo a conoscenza del fatto che il 2% degli italiani sia positivo al test antigenico allora io mi chiedo a questo punto la domanda è da questa statistica e dalla constatazione che Ugo è italiano posso derivare un giudizio sulla credibilità che Ugo risulti positivo al test antigenico non che risulti contagiato quello è il tema di Bayes che risulti qual è il giudizio sulla credibilità che sia positivo non che sia contagiato altra cosa beh banalmente io posso prendere quella statistica del 2% degli italiani e dire allora io credo se è vero che il 2% degli italiani che si sottopongono a quel test risultano positivi beh allora credo che Ugo sarà positivo lo credo al 2% è chiaro che posso far così però a questo punto vi faccio una domanda e se vengo a sapere che Ugo è marchigiano e ho altra cosa che vengo a sapere ho una statistica sulla positività dei marchigiani a questo punto Ugo che è diversa da quella di italiani 4% a questo punto io ho due statistiche che riguardano Ugo una relativa al fatto che Ugo è italiano e un'altra relativa al fatto che Ugo è marchigiano e quindi mi si pone il problema di come comporre queste statistiche per arrivare a emanare un giudizio sulla credibilità dell'informazione Ugo è positivo believe Ugo positivo come si fa? beh si potrebbero comporre le due e quindi Ugo abbiamo questo punto A Ugo ital B marchigiano U A ital B marchigiano poi magari c'è altre cose e mi si cominciano quindi aumentare le colonne ovviamente all'aumentare delle colonne cominciano ad aumentare le righe e questo è un problema perché chiaramente il numero delle righe è due se abbiamo variabili booleane è due elevato a n dove è nel numero delle variabili booleane dunque mi comincia un attimo a esplodere la faccenda non tanto per il calcolo che esplode il calcolo ma il problema sarà andare a prendere le statistiche sulla colonna di destra però 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 se io so che per esempio nell'esempio che sto facendo che Ugo è marchigiano allora è anche italiano e allora quindi siccome io noto che il fatto che Ugo sia italiano è conseguenza logica del fatto che Ugo sia marchigiano questo mi porta a ritenere che il fatto che Ugo sia italiano non è per niente indipendente dal fatto che Ugo sia marchigiano e quindi lo vedremo soprattutto nella successiva unità didattica io posso eliminare un po' dei righe probabilmente probabilmente posso del tutto eliminare la statistica sulla sapendo che Ugo è marchigiano posso del tutto eliminare la statistica riguardante gli italiani in quanto che l'essere Ugo un italiano è conseguenza logica dell'essere Ugo marchigiano e e e questo sarà una questione davvero importante lo vedremo nella successiva unità didattica allora problema scampato non credo perché il problema si ripresenta quando io vengo a sapere per esempio che esiste una statistica che riguarda i settantenni o una qualche statistica di positività che è gestita su classi di età per esempio una statistica sul fatto che appartenga la prima la seconda la terza età di positività a questo punto la domanda sorge spontanea come si diceva un po' di anni fa e cioè che alla luce del fatto di questa evidenza che ho sull'incidenza della possibilità per classi di età debbo andare a informarmi sulla classe di età a cui Ugo appartiene è sì o no forse sì forse no e certo che se sì se la risposta è sì a questo punto mi comincia a esplodere davvero la tabella perché se le classi sono solo tre devo aggiungere tre colonne e quindi a questo punto le variabili passano da due a cinque e il numero di righe passa da quattro a due alla cinque trentadue cioè ovviamente c'è un'esplosione combinatoriale ma se le classi di età invece che tre fossero state dieci e a questo punto avrei un'esplosione combinatoriale davvero importante e di nuovo quindi un problema è un problema di esplosione combinatoriale ma dicevo prima che il problema è anche di natura non solo logica computazionale ma anche filosofica se io vengo a sapere che Ugo lavora al porto è un portuale o un meccanista o un ferroviere che forse devo andare a fare delle statistiche sull'incidenza della diffusione del virus fra i portuali o fra i dipendenti delle ferrovie eh qui il problema si comincia a fare serio perché a questo punto il problema diventa un problema insorbontabile perché il problema è come posso presupporre che ci sia una qualche correlazione fra l'essere portuale o ferroviere e la diffusione di un contagio cosa mi potrebbe giustificare il fatto che io spenda dei soldi per andare a fare delle statistiche sulla diffusione di un contagio fra portuali o fra ferroviere perché è un problema si farà grave perché se poi io per esempio mi accorga che a Dugo piace molto la pasta asciutta che debbo andare a fare delle indagini sul rapporto fra tasso di positività la diffusione del contagio e gradimento della pasta asciutta e ovviamente questo è un po' paradossale è un po' estremo questo esempio che sto facendo ma mi valga per tutti gli infinite altre classi di categorizzazione che potremmo stare qui a concepire ovviamente quindi per esempio è un alcolista dipendente o non è un alcolista è un fumatore o non è un fumatore gli piace e lasciamo piede insomma ecco non c'è limite alle classi di referenza da valutare come possibili fonti di evidenza ecco qual è il problema delle probabilità soggettive il problema delle probabilità soggettive non c'è tanto nell'esplosione della tabella e quindi nella necessità di andare a fare statistiche molto molto specifiche e soprattutto quindi abbiamo un problema di andare a fare statistiche essere sicuri di queste statistiche e andare a riempire quella l'ultima colonna la famosa ultima colonna qui di destra che diventerà fatta a questo punto di milioni e milioni e milioni di numeri il problema è quello ma prima ancora di quello che è un di questo che è un problema computazionale c'è un problema filosofico quando io a un certo punto decido di fermarmi sulla base di che decido di fermarmi nella definizione delle variabili proposizionali avaliatorie cioè delle classi di referenza perché mi sono fermato perché ritengo tutte le altre in influenti e sulla base di cosa ritengo prioristicamente quelle in influenti invece quelle che ho considerato influenti a questo punto io posso aver speso tanti soldi e aver riempito questa tabella e aver fatto tutti i miei bei calcoli essere arrivato a stabilire la credibilità di qualunque affermazione come abbiamo visto in queste tre unità didattiche e arriva un altro che mi dice ma guarda che in realtà le categorizzazioni che tu hai preso sono tutte sbagliate perché bisogna prendere altre categorizzazioni bisogna conoscere per esempio la razza bisogna conoscere non lo so altre cose perché in realtà quelle che tu hai preso non sono significative per i calcoli che tu andavi a fare e allora non è che quei calcoli che ho fatto non valgono più è semplicemente che lui me ne propone altri rispetto ai quali quelli che ho fatto io sono del tutto ortogonali perché lui parte da altre categorizzazioni rispetto a quelle da cui sono partito io e a questo punto se è vera la credibilità che lui fornisce o è vera la mia dipende da un qualche cosa che non è strettamente matematicamente giustificabile è corretto lui è corretto io sono semplicemente diversi presupposti del ragionamento da cui partivamo è come quando nella logica abbiamo detto che noi siamo contro il pensiero debole no perché in realtà non è che ognuno la può pensare al suo modo in un certo senso nel senso che una volta che siamo d'accordo sulle premesse dobbiamo essere d'accordo sulle conclusioni su questo non ci piove né nella logica né nella teraproprietà il problema è che possiamo tranquillamente essere in disaccordo sulle premesse del ragionamento sia nella logica che nella teoria delle probabilità questo è il problema insormontabile e quindi non lo sormonteremo mentre invece cercheremo di sormontare il problema della difficoltà del calcolo e cioè dell'esplosione combinatoriale delle righe conseguente all'aumento del numero delle variabili booleane mediante il concetto di indipendenza di dipendenza di dipendenza quello che abbiamo appena visto il fatto che è ugo italiano e conseguenza logica del fatto che è marchigiano mi semplifica il discorso se riesco a trovare dipendenze di questo tipo fra le variabili proposizionali che siamo d'accordo a essere quelle quelle più importanti sulla base a quale andare a fare le statistiche allora grazie alle dipendenze che possiamo trovare tiriamo un respiro di sollievo perché a questo punto potremmo anche fare molta meno fatica ad andare a fare le statistiche e farà anche fatica meno fatica la CPU che utilizzeremo per andare a fare i calcoli quando andremo a fargli domande del genere qual è la credibilità di queste informazioni alla luce di queste altre supponendo che queste altre siano vere bene questo è l'argomento che vedremo nella successiva ed ultima unità didattica di questo modulo dedicato a ragionamento in condizioni di incertezza e cioè introducemo il concetto di dipendenza statistica o condizionale e vedremo uno di questi metodi di calcolo che è il metodo introdotto da Judea Perl nel 88 credo oltre in quegli anni là e cioè il concetto di rete bayesiana oltre in l'anima oltre in l'anima Grazie.